Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Aliexpress. L'ordine di oggi riguarda un treppieni. L'ordine ha impiegato ad aggiungere a destinazione 30 giorni. Il prezzo pagato è di 6,91 dollari, che sono circa 6 euro e 19 centesimi. La costa usata è la China Post non tracciabile. Il venditore ha dichiarato che si tratta di un tripod, che vuol dire treppiedi, e ha dichiarato un valore di 5 dollari, quindi poco inferiore al prezzo pagato. Andiamo ad aprire il pacco. Grazie. 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 il piedì ok qui c'è qui c'è l'aggancio per la fotocamera qui la levetta per far ruotare la fotocamera questo si gira anche verticalmente lo faccio vedere il peint il materiale è abbastanza buono non so i piedini se reggeranno bene però al momento sembra solido ok per il momento mi ritengo soddisfatto del prodotto se vi interessa come al solito vi lascerò il link nelle informazioni del video in basso se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti al canale fatelo così resterete sempre aggiornati sui nuovi unboxing che usciranno riguardanti sia Aliexpress che molti altri siti mi raccomando se questo video vi è piaciuto spolliciate e al prossimo video e al prossimo video